e possiamo partire con la prima categoria loving partiamo con la Federica Anelli, 13 anni di bottiglia frequenta la scuola media, ama leggere e ballare, da grande vorrebbe fare il medico chirurgo voglio sentire l'applauso brava Federica Anelli ok, passiamo alla seconda della categoria loving che è Gloria Cascone Gloria Cascone, 12 anni di bottiglia, frequenta la scuola media e il tempo libero è impegnata in una scuola di danza e anche lei vuole fare il medico Maria Cascone, 13 anni di bottiglia frequenta la terza media grava, il prossimo anno si scenderà in un liceo classico adora e difende gli animali brava, brava, devo dire brava, complimenti ama cantare e giocare a fallo adoro complimenti bene, adesso abbiamo fatto sfilare le prime tre della categoria la signora Bertone e Stefania Mauri Maule, Maule, Stefania Maule per la consegna della fascia, no? yes yes, allora intanto sono pronte mandiamo mandiamo la rullata vince per la categoria loving Federica Nelli bene, bene grazie 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 grazie